malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene parliamo di nuovo di economia sfrenata parliamo di economia della finanza la corsa dei dividendi la corsa dei dividendi continua senza ostacoli anche nel 2024 segnalando un nuovo record nel primo trimestre con un monte cedole di circa 339 miliardi in aumento pensate del più 24 per cento rispetto all'anno precedente insomma le borse vanno bene nonostante il confronto con un trimestre anomalo nel 2023 la crescita sottostante sarebbe stata del 6,8 per cento senza dei fattori straordinari quindi una crescita comunque molto importante e molto superiore al dato del pil per esempio il debutto di società come meta e l'ibaba hanno contribuito all'aumento globale del più 1,2 per cento ma soprattutto sono state è stato un settore particolare quello che ha trainato le borse e cioè il settore delle banche le banche hanno trainato ad un aumento globale del 25 per cento nella crescita complessiva dell'economia del sistema borsistico e anche il futuro continua a preannunciarsi positivo con una previsione di pagamenti totali pensate di 1720 miliardi di dollari nel 2024 in crescita del più 3,9 quindi quasi 4 per cento rispetto all'anno precedente in italia i dividendi invece hanno registrato una crescita del più 5,3 per cento sebbene l'aumento azionario totale sia stato rallentato da dei programmi di riacquisto azionario che hanno raggiunto circa 11,2 miliardi di dollari nel 2023 insomma l'incremento esorbitante delle rendite da capitale è il frutto di una deregolamentazione finanziaria che è stata avviata negli anni 90 e del crescente libera circolazione dei capitali e questo fenomeno riflette probabilmente una società malata in cui il benessere di pochi si fonda sulla sofferenza di tanti la uscita eventuale dall'unione europea e dall'eurozona potrebbe certamente frenare una libera circolazione delle merci dei capitali e del lavoro e questo per alcuni sarebbe una sciagura per altri significerebbe ridurre queste ingiuste disuguaglianze il punto centrale è il fatto che bisogna cercare di tornare a parlare di economia e non più di finanza io nella mia vita di consulente tutti i giorni parlo con piccole e medie imprese che hanno bisogno di fare un piano strategico per produrre assumere del personale creare del reddito e dare da mangiare delle famiglie italiane a me piace più quell'economia che non l'economia delle borse malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene